La battaglia è quella perché il Caravaggio, la deposizione di Santa Lucia, venga ricollocato all'interno della sua naturale collocazione, proprio la Basilica. Percorso lungo, adesso una risposta scientifica che lascia sperare molto bene. Sì, quando avevamo trasferito il Caravaggio da Santa Lucia nell'omonima piazza ad Ortigia abbiamo preso l'impegno che l'avremmo restituito e l'avremmo restituito in tempi veloci, invece così non è stato perché purtroppo è passato troppo tempo e perché è arrivato a un certo punto e è venuto fuori il fatto che il Caravaggio non poteva più tornare nella chiesa di Santa Lucia extramenia perché secondo alcuni vi era un'umidità diversa, un microclima diverso rispetto a quello che c'era a Santa Lucia, alla Badia o comunque nel Museo Bell'Omo dove prima era stato ospitato. Con il centro regionale del restauro il 19 dicembre del 2014 eravamo venuti sia in questa chiesa che nell'altra a mettere questi sensori. Il lavoro di questi sensori è durato un anno perché è stato necessario esaminare il microclima di tutto l'anno solare, non soltanto di un periodo. Adesso che è trascorso più di un anno finalmente il servizio fisico e chimico del centro regionale del restauro ha dato la risposta che è una risposta positiva perché i due microclima sono sovrapponibili, così sono stati definiti. Quindi la tela sulla deposizione di Santa Lucia può tornare nel suo quartiere, nella chiesa dove fu pensata e per la quale fu commissionata al Caravaggio e che pagarono evidentemente la gente della borgata e di conseguenza adesso l'invito che viene fatto da me a tutti è quello di cercare di fare immediatamente queste riunioni in prefettura dove dovrà partecipare chiaro la prefettura in quanto il quadro di proprietà del Ministero degli Interni, la sorprendendenza che comunque continua a vigilare sull'opera, il vescovo, l'arcivescovo della diocese di Siracusa che dovrà anche lui dare un'indicazione in maniera tale che ritornando il quadro in questa chiesa il quartiere possa soffrire del beneficio che un quadro di questa natura porterà sia in termini di turismo ma anche in termini di sicurezza perché è chiaro che avendo questo quadro deve aumentare il controllo delle forze dell'ordine su questo quartiere. E così stiamo anche rispondendo ad alcune polemiche o meglio stiamo dando delle risposte a chi sosteneva che a prescindere dall'aspetto scientifico adesso superato, microclima sovrapponibile significa che se non va bene qui non va bene neanche a Santa Lucia e alla Badia il discorso della sicurezza però diventava altrettanto importante, era fondamentale, c'era anche un passaggio che è diventato a tratti offensivo qui è meno sicuro che altrove perché qui siamo alla borgata, questo è assolutamente da escludere. Questo è assolutamente da escludere, è anche offensivo questo tipo di ragionamento ma perché la gente della borgata che cos'ha di meno rispetto al resto della città? Ci facciano sapere quello che occorre dal punto di vista economico dopodiché fra il Ministero degli Interni che è retto dall'onorevole Angelino Alfano e la sovrintendenza che è retta dall'assessorato dei beni culturali dove c'è l'assessore Vermiglio credo che troveremo le risorse. Grazie! Grazie!